bentornati ragazzi io sono sempre gaia o intuitive writer se invece devo darvi il benvenuto chiudete subito il video e ripartite dall'episodio zero perché se no non capirete nulla di ciò che dirò a breve in particolare se già conoscete la mbti o il socionics per chi è già dei nostri invece direi che è giunto il momento a questo punto di parlarvi di un aspetto dei tipi psicologici che forse vi sarà già balenato per la testa alcuni di voi si saranno chiesti ascoltandomi leggendomi o scoprendo le mbti per conto proprio in che modo siano distribuiti i tipi all'interno del genere umano se in modo omogeneo o se alcuni siano più rari di altri la risposta è piuttosto intuitiva ovviamente ci sono dei tipi meno comuni di altri e qui cari lettori o ascoltatori si va a toccare uno degli argomenti più delicati come un orologio volete un consiglio se questa notizia è per voi una novità e magari non siete ancora sicuri di quale sia il vostro tipo non andate a cercare le statistiche sui tipi psicologici non fatelo fidatevi io per mia grande fortuna grazie alle mie incompetenze internautiche le ho scoperte solo molto tardi dopo aver riconosciuto il mio tipo e di recente ho capito che probabilmente è stato un bene certo forse avrebbe accorciato di qualche anno i tempi di ricerca ma passando per una scorciatoia che non vorrei mai percorrere a mio avviso infatti l'ennesimo enorme problema della comunità in bti oltre agli stereotipi ai frendi ai fraintendimenti agli errori palesi all'inutile complessità di certi sistemi alla superficialità generale all'inaffidabilità dei test all'utilitarismo che c'è dietro di essi e così via è proprio la più o meno nota rarità di alcuni tipi ora non vorrei farvi una predica sull'egocentrismo della società moderna e su quanto al giorno d'oggi sembrerebbe più importante apparire che essere ma purtroppo è la verità e quindi non posso non dirla la ricerca dell'unicità e della realtà è un tratto comune a moltissime persone al di là della cultura e del sesso anche al di là dell'epoca storica certo ma il fatto di vivere in una società che esalta così tanto il ruolo dell'individuo a discapito della comunità favorisce notevolmente il proliferare di questo tratto della personalità considerate gli autoritratti ad esempio esistono fin dagli albori del genere umano ma il concetto di selfie è molto recente e di moda selfie autoritratto sono praticamente la stessa cosa ma sono parole figlie dei due epoche molto diverse e dunque presentano sfumature colori e tratteggiamenti diversi almeno dal mio punto di vista personale se l'autoritratto può essere visto come una ricerca uno studio e una rappresentazione artistica dell'essere infatti il selfie è quasi sempre una ricerca uno studio e una rappresentazione dell'apparire è l'emblema di una cultura che preferisce gli stratagemmi gli artifici la finzione e l'ego a discapito dell'io dell'autenticità e della verità è il simbolo più palese di un desiderio di ammirazione lode e conferme che magari altri invece ricercano nell'accumulo di conoscenze nei riconoscimenti nello sfoggio di cultura fine a se stesso e in tutto ciò che rientra nel culto della propria identità persino i più saggita di tanto in tanto cadono o ricadono in questa trappola per questo vi consiglio vi sconsiglio di cercare le statistiche per alcuni è come se la rarità fosse una qualità positiva non neutra come in realtà è raro infatti non è sinonimo di buono bello vero indispensabile utile speciale unico e così via avere un tipo psicologico raro non ci rende più speciali dell'avere i capelli rossi le lentiggini o i capelli neri gli occhi blu l'eterocromia una simmetria perfetta o qualunque tratto fisico raro che vi venga in mente come abbiamo già detto infatti tipo psicologico non è che una struttura quello che conta davvero e che rende unico ognuno di noi è il suo contenuto continuate a focalizzarvi sulla struttura e rischierete di vedere scomparire ed evaporare tutto ciò che essa contiene continuate a nutrire il vostro ego e farete morire di fame il vostro vero io perciò ripeto vi sconsiglio di cercare le statistiche molte delle quali risalgono persino a parecchi decenni fa ma credo comunque che sia un vostro diritto sapere che esistono sperando che non ne facciate uso per stabilire il vostro tipo il fatto di appartenere a un tipo molto comune non è un malus ragazzi anzi il motivo per cui certi tipi sono così numerosi è perché questi sono indispensabili alla sopravvivenza del genere umano che trova la sua forza appunto nel numero non tanto nel singolo pensate all'umanità come a un orologio di quadrante ce ne basta uno di lancette due o tre di numeri dodici ma di ingradaggi ne salvano parecchi altrimenti non funziona nulla il quadrante bianco non è più speciale degli ingranaggi su cui poggia è la compresenza e la sinergia di ogni pezzo a far muovere l'orologio nessuno di essi è speciale ma tutti sono importanti come sa bene ogni bravo orologiaio un solo ingranaggio rotto una sola vite saltata una sola rotellina storta può significare la morte dell'orologio siamo tutti collegati siamo tutti importanti siamo tutti unici i tipi ti i s t j e i n t j con tipi ti intendo due dei quattro tipi psicologici che hanno il pensiero come funzione dominante del conscio ossia i t j i s t j i n t j e s t j e d n t j vale per gli i s t j e per gli i n t j quasi tutto ciò che si è detto per le controparti estroverse anche questi due tipi hanno infatti una disposizione direttiva e un'attitudine manageriale sono tipi la cui attenzione è focalizzata sulle regole sui metodi sulle idee e sugli incarichi amano gli ambienti ben gestiti dal punto di vista logistico con protocolli precisi puntualità compiti da portare a termine incarichi da svolgere e strutture sia fisiche che sociali efficienti rigolosi e scrupolosissimi hanno un modo di aiutare gli altri più discreto e talvolta indiretto rispetto a due tipi a due tipi estroversi che sanno mettere molta più pressione sugli altri essendo introversi la sorgente e il focus del loro pensiero è di natura soggettiva non si orientano né giudicano in base all'esperienza oggettiva sebbene a volte possano sforzarsi di apparire così magari per essere accettati e presi in considerazione dagli estroversi la loro preoccupazione principale è la ricerca di nuove vedute piuttosto che di nuovi dati certi il pensiero introverso infatti è una funzione che formula domande ed elabora teorie mantenendo un atteggiamento riservato in presenza di dati oggettivi i dati infatti vengono raccolti semplicemente come prove o esempi che confermino le loro teorie non sono mai fini a se stessi a meno che non vogliano attirarsi le simpatie degli estroversi i dati di fatto quindi sono di importanza secondaria ciò che conta davvero è l'elaborazione di una teoria e di un punto di vista soggettivo di un'immagine primordiale simbolica e universale dare forma a quest'immagine per i tipi ti è più importante che dare forma alla realtà il massimo potere creativo del pensiero introverso viene raggiunto nel momento in cui l'immagine o l'idea creata dal nulla diventa una perfetta espressione astratta della realtà oggettiva il momento di massima soddisfazione per un tipo ti arriva quando l'idea astratta sembra quasi emergere dai fatti e dai dati concreti che quindi ne provano la validità se portato agli estremi laddove il pensiero estroverso accumula dati e fatti per puro empirismo svuotandoli del loro significato e paralizzando il pensiero quello introverso mostra una pericolosa tendenza ad adattare i fatti alla teoria o ad ignorarli del tutto in tali condizioni l'immagine primordiale diventa palese quasi mitologica o bizzarra più è distaccata dai fatti reali più l'immagine appare concreta agli introversi ma del tutto non convincente agli estroversi che la vedranno come un semplice teorizzare fine a se stesso agli occhi di un ti poco equilibrato infatti la veridicità di una teoria è dimostrata dalla sua stessa esistenza cogito ergo cogito penso quindi penso potrebbe dire le fantasie di un ti in questo stato variano a seconda della funzione più rumorosa fra virgolette che va ad accompagnare il pensiero se l'intuizione il mondo esterno apparirà inquietante distorto gotico e incomprensibile come un delirio alla david lynch incrociato con l'estetica del cinema espressionista tedesco per capirci se il sentimento a intervenire invece troveremo soprattutto strane relazioni e giudizi sentimentali contraddittori e inintellegibili se la sensazione invece potrebbero aprirsi nuove prospettive sensoriali mai sperimentate sia con che senza il corpo la psicoastenia come si è detto è un disturbo comune per un per un introverso in questo stato il sentimento essendo la funzione più repressa può solo avere un ruolo distruttivo o tutt'al più irrilevante potremmo riscontrare quindi la mancanza di un rapporto sentimentale con l'oggetto considerato superfluo se non addirittura fastidioso l'indifferenza o l'avversione per l'oggetto però caratterizza tutti gli introversi e anche per questo è molto difficile descriverli o riconoscerli ogni cosa che gravita nel loro campo d'azione tende a scomparire o ad essere celata il giudizio degli istj e degli intj quindi è spesso freddo caparbio arbitrario sconsiderato e quasi del tutto privo di simpatia amichevolezza e gentilezza qualità che vengono espresse raramente e con un certo disagio facendo sentire l'oggetto qualora questo fosse umano disprezzato o respinto l'inverosimile maschera di cortesia dei ti infatti non fa che aggravare i fraintendimenti e le incomprensioni persino il rapporto con le loro stesse idee è quasi del tutto privo di sentimento non le percepiscono come una loro creatura le spongono con schiettezza e qualora non venissero recepite con favore e comprensione anche con fastidio gli istj e gli intj infatti sono incredibilmente carenti quando si tratta di promuovere e pubblicizzare le loro idee non cercano l'approvazione degli altri il cui giudizio non influenza quasi per nulla la percezione che hanno delle proprie idee e verità soggettive sono spesso cocciuti e decisi del tutto incapaci di influenzare positivamente gli altri che dal canto loro si rendono conto di essere considerati superflui l'altra faccia di questa medaglia presenta una carenza nel curare anche il loro stesso benessere non di rado infatti si lasciano brutalizzare e sfruttare dagli altri almeno finché questi non interferiscono con la loro ricerca di nuove idee e vedute nel lavorare su queste idee possono essere così scrupolosi da renderle più complesse di quanto non sia necessario finendo per rimanerci imbrigliati da soli nel vano tentativo di cercare i fili che collegano l'idea alla realtà lavorano lentamente e con difficoltà poiché vengono spesso fraintesi sono taciturni e quando si sentono capiti la loro vanità può portarli a farsi sfruttare dagli altri senza nemmeno rendersene conto ad esempio sono facile preda dei tipi che attraverso il sentimento riescono a capirli e a influenzarli a livello inconscio nel momento in cui la trappola viene scoperta come facile intuire l'ostilità verso l'oggetto umano diventa una grigia misantropia che nasconde una sensibilità quasi infantile e un terrore dell'altro sesso o comunque del sesso da cui si attratti soltanto i pochi eletti che fanno parte del loro circolo privato conoscono il loro lato migliore gli altri li trovano per lo più inaccessibili arroganti e altezzosi come insegnanti ovviamente per quanto possano amare la loro materia risultano distanti e poco graditi d'altro canto loro stessi sono più interessati a sviluppare e arricchire il loro sistema di idee che non a presentarlo e spiegarlo attraverso la soggettificazione del conscio possono arrivare a fondere la loro persona con questo sistema di idee e verità soggettive rispondendo alle critiche con amarezza acidità e rimbecchi continuando a isolarsi e a questo punto che l'immagine primordiale dietro le loro idee diventa mitologica e priva di qualunque connessione con la realtà oggettiva supportata a fatica dalle funzioni inconsce arcaiche e sottosviluppate come gli ESTJ gli ESTJ fanno parte del gruppo dei guardiani SJ hanno quindi una tendenza a sviluppare e poi preservare le idee universali che affollano la loro mente sebbene distanti e poco espressivi sono partner genitori affidabili e fedeli cittadini responsabili gran lavoratori e amici leali apprezzano la stabilità le competenze tecniche i percorsi di vita più sicuri le verità e i valori consolidati gli impieghi con più garanzie gli ambienti di lavoro ben organizzati e la buona gestione da parte di un'autorità competente autorevole ed efficace come tutti gli altri tipi SJ sanno accumulare e sfruttare bene le risorse e a dispetto del loro temperamento introverso apprezzano l'idea di far parte di una comunità alla quale contribuire e dalla quale ricevere supporto se necessario come gli ENTJ invece gli ENTJ fanno parte del gruppo di razionali NT. Come gli ISTJ sono interessati ad aiutare i membri della loro comunità attraverso le competenze tecniche e concettuali ma a differenza di questi danno molta meno importanza alla stabilità e alla tradizione e possono persino essere viste come un freno al progresso tecnico scientifico. Preferiscono ideare nuovi sistemi e sviluppare nuovi metodi piuttosto che consolidare e migliorare le competenze già acquisite. Sono inoltre molto più flessibili riguardo alle tappe da seguire per raggiungere i loro obiettivi nonché più propensi a rischiare e tentare strade ancora inesplorate da se stessi o anche dagli altri. Con questo è tutto per oggi. Come sempre sperando di non avervi annoiati vi ringrazio per avermi ascoltata. Se volete supportare il mio lavoro condividete il video, commentate o lasciate un mi piace. I miei contatti ovviamente li trovate in descrizione. Iscrivetevi per ricevere aggiornamenti e notifiche. Alla prossima, ciao!